E' una geografia a macchia di Leopardo, ma che svelo un dato fondamentale. La crisi economica nelle Cese si è abbattuta soprattutto sui piccoli centri. Il rapporto Union Camera non lascia spazio, infatti, a molta immaginazione. A detenere la maglia nera del tasso negativo di crescita delle imprese, Castridi Lecce con a meno 1,33. Anche se in termini assoluti, sono Cutrofiano e Vegli, due comuni che detengono la palma nera in entrambe. Infatti sono morte sei imprese nell'ultimo trimestre. A Racale ed Acquarica del Capo, tre a Spongano, Squinsano e Soleto, due. Ad avere uno dei peggiori tassi di sviluppo, anche la piccola Palmariggi. Rengono invece grandi i centri. Lecce, prima fra tutti, con 59 nuove imprese, seguita da Galatina con 24 e 18 realtà imprenditoriali che hanno aperto i battenti anche a Tricase, Gallipoli e Porto Cesario. Ma, a grande sorpresa, la maggiore dinamicità la registra Nociglia, con un tasso di crescita del 2,70%, assieme a Specchia con il 2,49%. Regge, dunque, il Capo di Leuca, già colpito duramente in realtà dallo smantellamento del suo intero settore portante, il TAC. Dedichevano Letti, però, nella loro complessità. Nel terzo trimestre 2011, a fronte di 1.295 nuove imprese iscritte, 844 sono quelle che hanno cessato l'attività. I settori nella bufera vedono in pole position all'agricoltura, con 104 imprese che hanno dismesso l'attività negli ultimi tre mesi, ma con saldi negativi importanti anche per le attività manifatturiere, dove hanno chiuso i battenti 97 aziende. Tra i nanti si rivelano invece ancora una volta il settore delle costruzioni, dei servizi e degli alloggi e ristorazioni. La strada maestra, insomma da imboccare, rimane confermata quella del turismo.